Ultime vicende che riguardano il processo ambiente svenduto. Procuratore, cos'è accaduto il suo parere? Noi controllando, il mio ufficio, insomma, la procura, controllando in maniera, devo dire, minuziosa e certosina tutte le carte, abbiamo notato questa irregolarità, cioè il fatto che nel verbale di udienza, dell'ultima udienza, quella alla quale si è remessa la sentenza, solo per alcuni imputati, 10 su circa 50, risultava omessa l'indicazione dell'avvocato che sostituiva il difensore di fiducia. Indicazione che peraltro però era stata riportata nella sentenza che disponiva in via giudizio. Per correttezza innanzitutto e anche per cautela processuale abbiamo rappresentato questa situazione alla Corte. Noi abbiamo sostenuto che si trattava quindi di una nulità relativa, cioè una nulità che era sanata dal fatto che non era stata dedotta dai difensori nella udienza successiva. La Corte ha ritenuto invece di inquadrare queste irregolarità come una nulità assoluta che riguardava il diritto di difesa e quindi ha disposto la regressione del procedimento praticamente a quell'ultima udienza, 23 luglio praticamente, nella quale venne emessa la sentenza. Quindi si tratta di rinviare di 90 giorni il tutto? Io dico tecnicamente, ovviamente io non è che posso parlare e prendere impegni per l'ufficio giudicante. Noi come Procura della Repubblica abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare e probabilmente i miei colleghi sono stati particolarmente attenti, però se debbo fare una valutazione l'ufficio competente dovrà fissare la nuova udienza in maniera quanto più rapida possibile e si può fare, ma la nuova udienza, non so, i difensori esporrando le loro tesi, dopo di che si emetterà una nuova sentenza che potrà essere di rinvio a giudizio o di assoluzione, non siamo noi a doverlo dire, dove dovesse essere confermata la precedente sentenza che disponiva il rinvio a giudizio degli imputati, si fisserà l'udienza, la prima udienza. Debo dire che se si va con rapidità, diciamo che nel giro di tre, massimo quattro mesi, potremmo ritornare all'udienza di ieri, per dirla in maniera, però chiaramente queste sono previsioni che io faccio, ma che riguardano poi il lavoro che non deve essere fatto dal mio ufficio, ma dall'ufficio competente. Risultava omessa l'indicazione dell'avvocato che sostituiva il difensore di fiducia, indicazione che peraltro però era stata riportata nella sentenza che disponiva in rinvio a giudizio, per correttezza innanzitutto e anche per cautela processuale, abbiamo rappresentato questa situazione alla Corte, noi abbiamo sostenuto che si trattava quindi di una nulità relativa, cioè una nulità che era sanata dal fatto che non era stata dedotta dai difensori nel parlare e prendere impegni per l'ufficio giudicante, noi come procura della Repubblica abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare e probabilmente i miei colleghi sono stati particolarmente attenti, però se debbo fare una valutazione l'ufficio competente dovrà fissare la nuova udienza diciamo in maniera quanto più rapida possibile e si può fare. Ultime vicende che riguardano il processo ambiente svenduto, procuratore cos'è accaduto il suo parere? Noi controllando, il mio ufficio insomma, controllando in maniera debbo dire minuziosa e certosina tutte le carte, avevamo notato questa irregolarità, cioè il fatto che nel verbale di udienza, dell'ultima udienza, quella alla quale si è remessa la sentenza, solo per alcuni imputati 10 su circa 5 udienza successiva, la Corte ha ritenuto invece di inquadrare queste irregolarità come una nullità assoluta che riguardava il diritto di difesa e quindi ha disposto la regressione del procedimento praticamente a quell'ultima udienza, 23 luglio praticamente, nella quale venne emessa la sentenza. Quindi si tratta di rinviare di 90 giorni il tutto? Ma io dico tecnicamente, ovviamente io non è che posso par nuova udienza, non so i difensori esporrando le loro tesi, dopo di che si emetterà una nuova sentenza che potrà essere, non lo so, di rinvio a giudizio o di assoluzione, non siamo noi a doverlo dire, ove dovesse essere confermata la precedente sentenza che disponiva il rinvio a giudizio degli imputati, si fisserà l'udienza, la prima udienza. Debo dire che se si va con rapidità, diciamo che...